Ma io dico ma qui non gli hanno fatto l'animazione in cui invece di andare a cavallo va col suo drago Cioè ce l'ha già il mount, non mi sembrava necessario mettergli il cavallo No ma intendo fargli l'animazione come se avesse il cavallo ma in realtà con il coso Cazzo mi dimentico che non sono un tank, ciao Ops Madonna Ok 2000 di danno da l'healer, bello Ma crema Ma crema Fa che male quel fuoco Occhio Ma no Sarebbe bello avere un healer Ma cosa fanno tutti qua sopra? Si drogano Il punto è di sotto, ecco ora scendono di sotto, ora che noi siamo venuti qua No che cazzo di sparità Ma io ho perso l'healer Vabbè Si ora è su Ma va Ma che coglioni Anzi vado di qua Sento Maive Sento Maive C'è Ucciso Maive Non mi ha detto neanche una volta Più scarsa Porca troia No l'ho uccisa da sotto la casa 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 Come va No l'ho fatto in tempo No mi hanno ucciso mentre stavo ultando Eh, io non ho fatto in tempo, invece. Volevo ultare Rookus per mangiarlo. Avevo un sacco di soldi e adesso gli stupi non c'è la sorella. Ecco qua, è la loro fine. Boh, ok. Va bene. Ma porco Dio. Fuoco di merda. Non sono andata a non morire, ma... Ma IVA è un po' stupida, ma... Ok. Porca di una puttana. Merda. Perché io sono in base nemica, aiuto. Fai i punti, fai i punti. Ah, sì, sì, li sto facendo. LOL. Ah, la Q annulla proprio tutto quanto. Merda. Merda. Tirava la punta. Che c'è? Bravino, eh, Rookus. Eh, no, non lo so, non ho visto. Arco Dio, tutti. Tutti gli erano. Posso andare a prendere gli oggetti, dai. Su. Niente, mi continuo a mettere dalla parte opposta. No, non l'ho fatto in tempo a saltare. Fokus a Rookus. Non prendere gli oggetti. Fokus a Rookus. Finalmente ho degli oggetti. Rookus. Porco Dio, non ho premuto la acqua in tempo. Potevo deciderla un attimo prima. Dov'è il punto? Ah, di sotto. Se il punto è di sotto, perché i nostri stanno andando di sopra? Orca merda. Ah, non lo prendo? Vabbè. E' difficile quando sono tre lontani in un punto diverso dall'altro. Merda. Mi hanno spiegato. Maledetto. Porca puttana. Madonna, vai vai. Via. Ma vaffanculo. No, merda. Tutti sono venuti. Figli di puttana, tutti. Quanti erano, quanti erano. Dov'è uccidere tutti per morire. Ma ci ho provato, mi hanno ucciso. Ero nascosto dietro che aspettavo di curarmi un attimo. Andiamo. Pulpo, eh. No. Eh, me li ha allontanati tutti. Io, boh. Io non posso colpire da lontano. Oh, vada. Sta troia qua dietro. Cioè, ma io... Stupida. No, ma me l'ha stittata. Ma che l'ha stittata? L'ho fatto tutto il danno io. Non è vero. Mentre. Ma vaffanculo. No, veramente. Merda, ho sbagliato. Non ci posso credere. La sua ulti annullano la mia. Perché sta roba? Dai, ma che porco dio di merda. Ma perché le ulti degli altri annullano la mia? Ma non vale. Eh, lo so. Ma il punto è di sotto. Questo è FK. Questa me la stila, ma ok. Ah, sopra c'è... Ling. Sì, faccio 79 di danno. Porco 2. Vabbè, fanno un punto nascostia. Che è scarso. Wow. Che è scarso anche questo. Che è scarso anche quello. Deve è andata, credo. Oh, Rukkus. Me la son persa per un attimo. No, stavo a provare la doppia. Fanculo. Super easy. 25 cristalli. Quattro. Così, a caso. Mi regalza 25 cristalli. Così.